buona giornata amici da massimo foghetti oggi è mercoledì 16 marzo 2022 ben trovati alla rassegna stampa di fano tv come sempre sfoglieremo oggi i giornali il resto il carlino il corriere adriatico in modo particolare sulle notizie a carattere locale partiamo subito con il santo del giorno oggi si festeggia sante riberto vescovo di colonia era un uomo importante era il cancelliere dell'imperatore germanico ottone terzo fu testimone del passaggio dell'anno mille un evento questo sofferto dalla popolazione che pensava che l'anno mille era un anno topico per quanto riguarda la fine del mondo e subentrò di lagogh una sensazione di timore di paura di superstizione in tutta europa sante riberto si distinse per la sua indole caritatevole e portata al sacrificio ovviamente combatté questa superstizione lui stesso indossava il cilicio ma mostrava sempre un carattere affabile dolce e sereno e quindi si distinse per la sua vita santa e caritatevole ed ora passiamo dopo questa visione così esaltante passiamo alle previsioni del tempo dove non non diciamo di meno perché il tempo si mantiene molto bello un campo di alta pressione è stabile sulle marche garantisce un tempo soleggiato il clima diurno della giornata dunque emite le punte massime arriveranno fino a 16 17 gradi ieri erano sui 14 15 quindi un piccolo aumento i venti ispireranno sulle coste da una direzione di ovest sull'interno invece con una tensione debole da nord est le temperature però sono in calo comunque ci avviciniamo al momento topico del giorno di san benedetto ovvero il 21 marzo ed ora apriamo il corriere il resto del carlino non il corriere adriatico il resto del carlino sulla pagina di fano vedete qui questa bella fotografia iniziamo con una visione serena una visione di pace quella che forniscono gli scolaretti della scuola corridoni viva la pace hanno gridato esultanti nella giornata di ieri sulla gradinata d'ingresso della loro scuola una bellissima coreografia al termine delle lezioni con gli allunni a dinneggiare all'amore tra i popoli sventolavano una bandierina che loro stessi hanno disegnato una bandierina con i colori dell'arco baleno per inneggiare la pace davanti all'ingresso della loro scuola c'era anche il sindaco massimo seri l'assessore ai servizi educativi samuele mascarin l'assessore barbara brunori e ovviamente il dirigente della scuola hanno coinvolto in questo flash mob anche i passanti che ovviamente non sono rimasti insensibili di fronte a questa manifestazione in favore della pace vediamo le altre notizie a fondo pagina si parla della erosione della spiaggia di sassonia in modo particolare davanti ai bagni gabriele e carlo bagni che sono rimasti esposti alla forza delle onde dopo che è stata realizzata una scogliera che giungeva fino a depressi le loro concessioni ma come capita quando le scogliere non terminano in un punto protetto come la barriera del porto qui l'erosione aumenta si aggrava in calza però vediamo che ci sono notizie consolanti le dice lo stesso operatore balneare di bagni carlo matteo renzi dice entro marzo saranno finalmente posizionate le scogliere si tratta di un litorale di 90 metri mangiato in gran parte dalla forza dell'onde e che hanno messo in pericolo anche la passeggiata del lisippo mi sento più tranquillo ha detto matteo renzi ho partecipato ai tavoli di lavoro per cui quello che racconto è quello che ho visto fare quindi è fiducioso che il problema sarà risolto entro breve tempo e poi abbiamo un episodio di cronaca che è tutto da chiarire c'è un mistero alla tecnoal la tecnoal è un'azienda un'azienda che si trova nella zona industriale di ponte metauro secondo un primo accertamento dopo che dieci dipendenti sono finiti in ospedale sembra esserci stato monossido di carbonio ma il responsabile dell'azienda comunque esclude combustioni fermata la produzione che cosa è accaduto è accaduto ieri dieci dipendenti sono finiti in ospedale per accertamenti e l'azienda è chiusa per tre giorni occorre verificare quello che è accaduto perché questi dipendenti sono finiti in ospedale è il bilancio dunque di quanto è venuto lunedì sera la tecnoal azienda di lavorazioni dell'alluminio in via mattei intorno alle 19.30 una dipendente della ditta una donna si è sentita male si tratta di una ragazza che è diventata pallida ha avuto dei mancamenti è stata chiamata l'ambulanza e fosse in base a uno spunto che parte proprio dai sanitari nasce il dubbio che la donna si sia sentita male a causa appunto di un avvelenamento da monossido di carbonio si parla ancora della psicosi nata dalla guerra in ucraina per quanto riguarda l'approvvigionamento di generi alimentari forse una psicosi che non ha ragione di essere se non per qualche aumento di prezzi incetta di pasta zucchero e farina cibi in scatola si tratta di un assalto che è stato fatto oggetto il nuovo supermercato dell'eurospin in viale in viale piceno in via pisacane scusate la stessa via che però cambia nome un po più là all'eurospin di via pisacane nel mirino dei clienti finito il cibo soprattutto a lunga conservazione come la pasta la farina lo zucchero lo scatolame di vario tipo dal tonno al pomodoro il rincaro dei carburanti il timore di un ulteriore aumento dei prezzi e di un eventuale sciopero dei camionisti hanno indotto molte persone a fare approvvigionamento e lo scorso settimana i carrelli sono stati riempiti sono andati esauriti in breve tempo tutti i cibi a lunga conservazione qui vediamo la vice responsabile daniela grammaccioni che mostra appunto gli scatoloni della pasta probabilmente svuotati appunto da quanto è stato preso dai clienti passiamo alle altre località a pergola vota il borgo dei borghi pergola è stata interprete di una trasmissione televisiva molto molto seguita quella condotta da camilla rasnovic il programma di rai 3 è un programma che va in onda domenica in serata ebbene c'è una sfida tra i borghi più belli d'italia per vedere qual è il migliore e pergola a molte a molti numeri e a molte probabilità di vincere questa sfida se appunto ci riuscisse sarebbe veramente un una molla promozionale veramente eclatante per quanto riguarda il centro dell'entroterra e la cof commercio invita i cittadini a partecipare al concorso indetto appunto da questo programma votando è possibile votare fino al 3 aprile nel sito www.rai.it slash borgodei borghi punto la modalità è semplice si può esprimere un voto al giorno da ogni indirizzo e mail coloro che sono già in possesso poi delle credenziali di rayplay possono effettuare direttamente il login al sito ed esprimere la propria preferenza insomma aiutiamo i pergolesi ad emergere ne hanno tutte le potenzialità ne hanno tutti i diritti per la loro splendida località e soprattutto per i per i bronzi che conservano nel loro museo una scuola virtuosa una bolletta tagliata del 50 per cento grazie ai pannelli fotovoltaici sistemati sulla scuola primaria di orciano permettono di risparmiare 4 mila euro al mese ed è il sindaco di terre roveresche antonio sebastianelli davanti alla primaria di orciano che evidenzia questa risorsa risorsa che risparmia appunto soldi dell'amministrazione pubblica una scuola virtuosa passiamo ad urbino dove i ricercatori e hanno svelato l'identikit del microbiota scusate microbiota nazionale e cos'è il microbiota nazionale? non è altro che la flora intestinale è l'insieme di microrganismi che albergano nel nostro intestino senza danneggiarlo sono quelli che poi presiedono a tutte le funzioni intestinali ebbene hanno svelato questi ricercatori sono gli scienziati Pietro Gobbi e Marco Rocchi dell'università di Urbino la configurazione l'identikit di questi germi di germi positivi quindi ciascun essere umano pensate ne alberga ne ospita 35 mila miliardi sono una infinità ma presiedono a tante funzioni si tratta di funzioni importanti incluse quella del metabolismo e del sistema nervoso quindi sono degli amici del nostro sistema organico la muta di Raffaello questo bellissimo quadro che è una delle risorse principali del museo delle Marche che si trova a Urbino la muta andrà a Londra il celebre dipinto sarà in partenza verso la National Gallery per la mostra in programma dal 9 aprile al 31 luglio va in trasferta per quattro mesi dove sarà protagonista fino a fine luglio di una mostra dedicata appunto al pittore Urbinate poi ci saranno anche altre opere che giungeranno a Londra da altri musei dal Louvre dal Prado di Madrid dalla Galleria degli Uffizi di Firenze dai Musei Vaticani e dalla National Gallery of Art di Washington normalmente visibile nell'appartamento della Duchezza al piano nobile di Palazzo Ducale di Urbino il ritratto femminile di Raffaello detto la muta vi resterà fino al 22 marzo tornerà poi il 7 agosto per essere visto dai turisti che visiteranno Urbino ed ora diamo un'occhiata alla pagina di Pesaro dove si parla dell'ospitalità dei profughi giunti dalla Ucraina noi volontarie per i profughi impantanate nella burocrazia ospitalità che non è esente da problemi problemi creati magari anche artatamente, artificiosamente ai danni di coloro che si prestano al volontariato il grido di aiuto è di Sara una volontaria giorni persi ha detto per tentare di avere un pediatra e un medico per le mamme e i figli per l'inserimento a scuola ancora non c'è nessuna risposta e le ucraine pesaresi potrebbero fare da traduttrici in classe quindi importante questo aiuto che per aiutare i bambini che non conoscono l'italiano ovviamente sono appena giunti nel nostro paese di capire quello che la maestra sta dicendo in missione per mettere in salvo 103 ucraini la canonica apre le porte a donne e bambini si tratta di un viaggio compiuto da un gruppo di volontari e forze dell'ordine che dalla città di Copp hanno prelevato e portato in Italia i profughi alcuni sono stati ospitati da Don Enrico a Villa Fastigi e poi abbiamo il racconto di Olga mio marito a Kiev io al sicuro con i miei figli i mariti rimangono appunto in Ucraina per combattere mentre le donne cercano di portare in salvo almeno i loro bambini fuori all'estero insomma una situazione che coinvolge milioni di persone e veramente milioni sono già usciti da questo paese tormentato a Pesaro ci sono almeno 120 sfollati ora è importante attivare percorsi di integrazione perché queste persone devono poter inserirsi nel nostro sistema sociale e adesso siamo costretti a parlare di un nuovo lutto di un incidente se la strada dopo la morte del ragazzino di cui sono stati celebrati i funerali a Borgo Santa Maria un ragazzo di 16 anni ora vediamo che è deceduto probabilmente con le stesse modalità anche lui era un centauro era in sella ad una motocicletta un operaio di 49 anni si tratta di Orfeo Andreas Vagni 49 anni sposato una figlia di otto con la casa in via Sarnano alla tombaccia di Fano andava al lavoro sulla panoramica dell'ardizio è andato a sbattere con un camioncino che si inseriva appunto sulla strada un furgoncino si è messo tagliandogli la strada l'urto violento è stato fatale lascia la moglie appunto una bambina di otto anni i soccorritori purtroppo giunti sul posto non sono riusciti a rianimarlo nonostante tutti i tentativi che hanno praticato un altro lutto un altro lutto insomma che funesta un po' la giornata Miralfiore serve un comitato antiscempio lo dice il gruppo zero che si schiera contro l'amministrazione comunale per i tagli che sono stati fatti al parco la proposta è quella di andare a formare un qualificato gruppo per la gestione di questa area verde e ogni volta che si taglia un albero gli ambientalisti insorgono lo vediamo poi anche per quanto riguarda piazza Marcolini nella città di Fano e poi oggi è il giorno topico il giorno decisivo che dovrà decretare il vincitore del concorso della città della cultura a livello nazionale della capitale della cultura a livello nazionale capitale della cultura il giorno del verdetto stamattina il ministero annuncerà la città vincitrice e il vice sindaco di Pesaro Vimini abbiamo dato il massimo secondo Sgarbi sono favorite Ascoli Pesaro e Vicenza sono tre città in pole position ce ne sono diverse che aspirano a questo titolo con Pesaro e Dascoli se la giocano anche Siracusa Viareggio Chioggia Grosseto Sestri Levante con il Tiguglio Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento e Vicenza insomma una squadra agguerrita per disputarsi questo primato Pesaro aspetta il risponso incrociando le dita consapevole di aver giocato al meglio tutte le sue carte e la carta più importante è stata quella di aver coinvolto il territorio quindi non solo il nucleo urbano di Pesaro ma il territorio provinciale insieme a Durbino ed insieme a Fano un pool di ricchezze veramente eccezionale per quanto riguarda quello che l'età di più bello può offrire ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico lo apriamo sulla pagina di Fano dove vediamo che l'apertura è dedicata al Teatro Romano un'altra delle risorse più importanti a livello culturale e a livello turistico il Teatro Romano sarà visitabile è l'impegno del sindaco per la prossima estate e la sindaco Massimo Seri ha incontrato nei giorni scorsi la nuova soprintendente Carlo Rosi ed è stata concordato un intervento della soprintendenza per la messa in sicurezza dell'area per consentire visite guidate a gruppi di turisti per la prossima estate intanto verranno fatti sondaggi e verifiche per mettere in sicurezza l'area ma soprattutto per capire dove andare a intervenire per mettere in superficie tutta l'area del Teatro Romano insomma fare ulteriori sondaggi per la prossima estate il Teatro Romano sarà visitabile al pubblico e questo dunque è l'intendimento del sindaco Massimo Seri che gestendo direttamente il settore della cultura e lui l'assessore alla cultura ha preso a cuore un obiettivo che costituisce veramente l'aspettativa da tanti tanti anni da tanti fanesi e l'occasione per fare un passo avanti è stato questo incontro con Cecilia Carlo Rosi la nuova soprintendente ai beni archeologici delle Marche che ha capito l'importanza di questo reperto fanese l'informa giovani ora in presenza e torna il seminario summer job ieri è stata presentata una iniziativa che riguarda l'avviamento al lavoro di tanti giovani torna in presenza l'attività di dedalo l'informa giovani questa istituzione importante condotta da due operatrici che si trova alla memoteca montanari i giovani possono essere edotti per tutte le opportunità di lavoro che esistono sia in Italia che all'estero e ci sono tre giornate che verranno dedicate a tre particolari aspetti del problema il 29 marzo sarà dedicato alla mobilità estera tutti coloro che vogliono fare esperienze all'estero in Europa ma anche in America nonostante che l'Europa sia caratterizzata da quello che sta accadendo tra Russia e Ucraina ci sono opportunità di lavoro in vari paesi il 30 marzo sarà dedicato invece alle opportunità occupazionali offerte dal settore ciclo lavoro la mobilità compatibile andare in bicicletta andare in bicicletta comporta tutta una serie tutto un apparato di lavoro che soprassiede appunto alla funzionalità del mezzo i meccanici i vecchi meccanici di una volta coloro che sanno riparare le biciclette che sanno aggiustare piccoli e grandi problemi per la mobilità ciclabile ebbene è un settore un serbatoio di lavoro di grande interesse e poi il 31 marzo ci saranno colloqui diretti con gli albergatori coloro che vogliono aspirare ad un lavoro stagionale negli alberghi camerieri uomini che stanno alla reception insomma uomini o donne di sala delle camere tutto quello che serve ad un albergo può essere oggetto di confronto tra il candidato stesso e l'albergatore il quale poi sceglie direttamente senza intermediari i lavoratori che servono alla sua attività vediamo anche qui la fotografia a fondopagina del flash mob per la pace organizzato alla scuola Corridoni mentre un fatto di cronaca viene evidenziato a fondopagina nella prima pagina di Fano uscì dalla comunità e morì per overdose il pusher e a giudizio si tratta di una donna di una donna di 34 anni che era uscita dalla comunità per partecipare al compleanno del figlio di 5 anni però purtroppo non ha resistito ad una ulteriore tentazione e ha assunto una dose di eroina però si è sentita male ed è deceduta a processo l'uomo che ha venduto questa dose si tratta di un quarantenne nigeriano accusato di morte come conseguenza di altro delitto e spaccio di sostanze stupefacenti ceriamo ancora la pagina sempre sulla pagina di Fano e vediamo come l'amministrazione comunale ha approvato una delibera che riguarda la qualificazione dei giardini Leopardi e della Corte Malatestiana un intervento di poco meno di 2 milioni di euro 1,8 per collegare Via Nolfi a piazza 20 Settembre attraverso la Corte Malatestiana e l'ingresso appunto di questo spazio bellissimo di carattere medioevale rinascimentale avverrà da Via Nolfi quindi dalla parte opposta rispetto alla piazza riqualificare i giardini Leopardi e recuperare e aggiornare la funzione della Corte Malatestiana che dopo la soppressione della sua funzione teatrale è rimasto uno spazio così un po' in bilico tra quello che rappresenta e quello che è in realtà quindi verrà riqualificato con nuovi arredi e vedremo che cosa nascerà da questo progetto e per quanto riguarda Piazza Marcolini è stato avviato lo studio delle alberi e quindi delle radici dei lecci per capire se sono malati non sono malati si devono tagliare non si devono tagliare l'operazione in Piazza Marcolini per decidere appunto che cosa fare comunque gli ambientalisti sono in allarme vediamo ancora sulla Val Metauro a Fossombrone il gemellaggio tra i ristoratori e studenti dell'alberghiero i ragazzi dell'istituto di Piobbico parteciperanno al prossimo festival del tartufo e a Pergola Borgo dei Borghi ne abbiamo parlato la campagna al via vota Pergola fai vincere le marche ciò detto diamo un'occhiata anche alle pagine di Pesaro dove si parla del caro vita se ne parla ormai da diversi giorni energia rincari anche del 130% ma qui non spegniamo le luci lo ha detto l'assessore al bilancio Nobili aumenti rientrati a gennaio per il momento non c'è nessun cambiamento si punta sull'efficientamento e l'illuminazione a led che risparmia molto sulla bolletta importanti risorse per abbattere il consumo per quanto riguarda il metano invece non è stato solo raddoppiato il prezzo ma addirittura triplicato quadruplicato insomma se ne accorgono i metano autisti quando vanno a fare rifornimento ma c'è una eccezione una eccezione perché in un punto di distribuzione il metano costa ancora 1,535 euro prima degli aumenti era 0,99 sì c'è un piccolo aumento ma non è quello di 3,4 euro che si paga altrove ebbene metano a prezzo stracciato le auto in fila anche per ore grazie all'imprenditore che ha fatto scorta di gas in tempi non sospetti e dove si trova questo distributore si trova a Dapecchio nella strada provinciale 257 il distributore è gestito da Domenico Ottaviani che può permettersi il lusso grazie appunto alle riserve che ha accumulato di vendere il carburante a 1,535 euro un piccolo aumento sostenibile dalla maggior parte dei metanautisti raccolta abiti al mercato per il materiale 13 furgoni ieri si è conclusa l'iniziativa organizzata dagli ambulanti di San Decenzio in favore dei nuovi immigrati in campo oppure la protezione civile ora prepariamo i pacchi con gli alimenti dopo i capi di abbigliamento ora spetta i generi alimentari e poi vediamo che è un'iniziativa di un albergatore da noi porte aperte anche tutta la notte siamo all'avanguardia si tratta dell'hotel Elbezia l'unico albergo che ospita profughi anche di passaggio il titolare dice sono mamme e bimbi e hanno bisogno di soluzioni più stabili schianto muore un giovane padre stava andando al lavoro in scooter questo è l'articolo che pubblica il Corriere Adriatico nel nuovo dramma che si è verificato ieri sulla strada del Monte Ardizio e poi la villa della Zarina sul San Bartolo si stringe il cerchio pronto a scattare il sequestro sul colle e siamo in conclusione voglio solo evidenziarvi qualche notizia di sport la vediamo sul resto del Carlino la visse paga classe emanate della Reggiana ebbene un'altra partita sfortunata per i biancorossi Reggiana 3 vi spesero 1 2 gol viziati da evidenti falli con non rilevati dall'arbitro e beh capita anche questo nelle migliori famiglie è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e vi ricordo Fano TV non più sul canale 17 ma sul canale 19 risintonizzate i vostri programmi questo è tutto a risentirci tutti Grazie a tutti.